buongiorno sono Mirko l'anno scorso dopo 48 anni di vita mi sono deciso di prendere la patente della moto mai avuta e niente complice un furto subito sotto casa del mio furgone dal lavoro completamente aperto e svuotato ho deciso di comprare un mezzo che mi potesse permettere di spostarmi e lasciando il mezzo dal lavoro a casa in magazzino niente quindi ho detto prendo la patente e la moto compro una moto che mi possa permettere di poter andare al lavoro niente al momento che ho preso la patente mi è scatolito dietro di me qualcosa di abbastanza importante cioè il mezzo di trasporto mio principale è diventata la moto sabato e domenica sempre in moto anche con la moglie che fortunatamente piace tanto anche a lei e niente quindi ci dilettiamo a fare dei piccoli viaggi perché ci manca il tempo sempre per quello avendo anche una figlia comunque di 17 anni che ha bisogno delle sue attenzioni quindi nel tempo ci concede lei e il lavoro spesso e volentieri facciamo giri in moto da questi giri in moto viene fuori diverse esperienze ci piace cucinare quindi ci portiamo sempre fornellino dietro e cerchiamo di cucinarci sempre qualcosa da noi ci piace mangiare bene quindi tante volte ci fermiamo nei ristoranti niente questo canale piacerebbe praticamente farlo perché vogliamo condividere queste situazioni con voi e magari voi se fate la stessa cosa nelle commenti così ci dite la vostre esperienze da lì possano nascere delle cose carine alcune volte mi piace anche fare dei bivacchi selvaggi cioè porto di retrotenda sacca a pelo a una scettola mi fermo dove sono e cerco un posto dove dormire questo non è che l'abbia fatto tantissime volte ho fatto un paio di volte la cosa mi piace veramente tanto perché ti dà quell'adrenalina della solitudine e del bosco sentire i rumori degli animali così che sembra sempre che si debba succedere qualcosa poi in effetti in definitiva poi è il posto più sicuro in cui non può stare quindi non succede mai niente però anche queste sono cose grandi vengono fuori dei video bellini anche perché si vede un pochino la paura l'adrenalina che uno addosso si trasmette nel video niente poi essendo un artigiano mi piace anche fare a creare cose da me quindi ho fatto delle modifiche sulla moto ho creato cose che mi potevano servire che farò delle recensioni via via durante il proseguimento sul canale però insomma per anticiparvi niente ho messo ho creato il portapacchi ho messo un interruttore per escludere l'abs e ho fatto quelle staffettine lì dove ci colloco le mie vecchie borsi da bicicletta e niente questo è la mia il nostro destriero si chiama la ciuchina come il titolo del canale è una noia nei felde himalaya che farò una recensione più in qua comunque vi dico solo una cosa mi anticipo solo una cosa siamo veramente soddisfatti per ora vi saluto se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi per avere gli aggiornamenti via via su quello che pubblicerò grazie grazie a tutti grazie a tutti